Preoccupazione nel Cremonese per il moltiplicarsi di casi di furti in appartamento verificatisi nelle scorse ore. Ben tre abitazioni sono state depredate ieri in pieno giorno e in pieno centro, in via Largo alla Vittoria e Sulla Dovarese, in gentri bottini impreziosi e contanti, in merito indagano i carabinieri. Altre due razzie sono però avvenute nell'ultima settimana dopo quelle messe a segno a Ustiano e a Cicognolo, dove ben due casseforti qui sono state sventrate da malviventi che hanno avuto anche il contatto visivo con i proprietari rientrati mentre loro erano ancora in azione. L'ipotesi degli inquirenti è che da giri sia stata una stessa banda specializzatasi, per così dire, in questa tipologia di reato e in questo momento concentratisi purtroppo sul nostro territorio.